Primi giorni di scuola anche per gli alunni di Sant'Eusebio, ma è già tempo di pagelle. Eh sì, perché promosse a pieni voti le insegnanti per quello che riguarda l'accoglienza, invece una pesante insufficienza per il problema legato al traffico e ai parcheggi qui in Viale dei Martiri. A livello organizzativo di spazi le maestre, diciamo, sono state molto brave a organizzare tutto. Parcheggiare però non è tanto semplice. Parcheggiare assolutamente no, soprattutto c'è il problema dei trasporti, fino al primo ottobre c'è questa difficoltà, nel senso che l'autobus è soltanto uno, per cui sono chiamati i genitori a fare una scelta, chi ha effettiva e urgente necessità può salire e gli altri no. Diciamo che l'accoglienza delle maestre è stata meravigliosa, i bambini sono sereni e la serenità arriva anche dal fatto che noi famiglie abbiamo fatto quadrato, ci siamo aiutate, abbiamo fatto rete. Promossi gli insegnanti, ma la bocciatura più pesante è per i disagi legati al traffico e alla quasi totale assenza di parcheggi. Uno scenario ampiamente prevedibile, ma la realtà sta addirittura superando le peggiori ipotesi. E nei giorni di mercato la situazione passa da bollino rosso a bollino nero. È molto impegnativo per tutti, soprattutto per chi lavora, trovare parcheggio, la macchina si lascia veramente dove si trova e alzarsi presto al mattino, anche i bambini non sono abituati.